60 anni fa veniva incoronata la regina Elisabetta II, oggi a Londra si è celebrato quel momento. La sovrana è giunta a West Minister Abbey, scortata da 20 componenti della famiglia reale, compreso il consorte Principe Filippo, e accompagnata dalla stessa musica che nel 1953 fece da colonna sonora alla sua ascesa al trono. L'incoronazione di Elisabetta II fu la prima trasmessa in diretta tv. Tra i 2000 ospiti di oggi ci sono anche alcuni che erano presenti all'evento di 60 anni fa. Quel giorno la regina aveva 27 anni e pronunciò una frase che oggi, alla luce del suo lungo regno, potrebbe benissimo venire considerata profetica. Davanti a tutti voi dichiaro che l'intera mia vita, lunga o corta che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale, alla quale tutti apparteniamo. Alla famiglia, alla cui tutti apprezziamo.